Continua il dibattito nelle marche sul sistema sanitario. Dopo le battaglie, i confronti e le numerose proteste durate decenni, l'altra sera il Consiglio regionale ha bloccato i progetti dei nuovi ospedali. Con il voto unanime della maggioranza e dei 5 Stelle è arrivato lo stop definitivo, anche per quello che sarebbe dovuto sorgere a Muraglia di Pesaro. Ieri il sindaco Matteo Ricci ha annunciato battaglia, oggi invece a intervenire il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, che ha già chiesto un incontro al presidente Acquaroli e all'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Intanto il Consiglio regionale non è che abbia preso decisioni, ha solo preso tempo. Allora sulla sanità è ora di non prendersi in giro e di chiamare le cose per nome e cognome per quel che sono, perché a tutt'oggi non è che c'è stato un provvedimento di sospensione del project financing, ma continuano a parlare di nuovo ospedale e nuovo ospedale significa il progetto esistente. Oggi non si può più andare avanti così in questa situazione e lo stanno gridando da mesi, da anni tutti gli operatori che lavorano nelle due strutture. Allora se questo è il percorso il nuovo ospedale deve essere fatto. Altrimenti, prosegue il sindaco, bisogna avere il coraggio di dire se cambia il piano sanitario. Non si parla più di nuovo ospedale Marche Nord e si ritorna ai due presidi, ma noi abbiamo bisogno di strutture di qualità con professionisti e tecnologie avanzate. Non dobbiamo svuotare un territorio, qui c'è anche un protocollo che questa città ha firmato, che prevedeva la permanenza del Santa Croce e questo ho sentito che è confermato, lo mantengono, lo hanno gridato, mi hanno aggredito in tante occasioni, politicamente parlando ovviamente, ma c'è anche una nuova struttura ospedaliera che era prevista a Chiaruccia. Ecco, io non vorrei che queste cose si perdessero nell'interesse della città, nell'interesse del servizio. Se la regione ha avuto un cambiamento alle ultime elezioni e la sanità ha giocato un ruolo importante, ha detto il primo cittadino, e il centro-sinistra ha grosse responsabilità. Io sono sempre stato contrario, ha ricordato, alla realizzazione dell'ospedale di Muraglia. Tutt'oggi lo reputo un errore e chi sta dall'altra parte, oggi chi ha la responsabilità della regione su questa cosa ha sempre criticato questa scelta, allora abbia il coraggio di dire facciamolo nel sito migliore che quello di Chiaruccia. Ma penso che questo non avranno né la forza né la capacità di farlo. Io auguro che non si vada a svuotare anche le conquiste ultime che abbiamo fatto per la nostra città, per il sistema sanitario complessivo. Infine, Serie ha detto la sua sul destino dei fondi che si volevano destinare al nuovo ospedale unico di Fano e Pesaro. Se si perdono risorse così importanti per il nostro territorio, non è solo per la regione, proprio per il nostro territorio, 105 milioni già destinati dal Cipe, quindi quello è un rischio reale, poi se ne assumerebbero tutte le responsabilità, perché quella sarebbe una grande perdita per il nostro territorio.